un'offerta incredibile un fustino con due gnocchi attaccate una cosa incredibile dove ti si trova te? a Mantua a Mantua bellissimo e a Mantua funziona così funziona così a Mantua quindi a Mantua tu esci e ti trovi attaccate due gnocchi a Mantua avanti a Mantua fammi una promozione del tuo paese venite tutti a Gonzaga che Gonzaga fa paura ragazzi fa paura due ragazze due ragazze per un ragazzo e due ragazze incredibile ma bellissimo c'è posto a Gonzaga per me posso venire anche io certo quindi mi si appiccicano anche a me dopo però devi venire a Gonzaga se no qua non funziona andiamo tutti a Gonzaga ma adesso stasera ragazzi cosa festeggiate? compleanno del nostro amico questo qua è il nostro siamo qua allora tutto a posto comunque questa sera bellissima serata posso anche cantare non so vive no ma allora canta qualcosa sono sonato ma è la tua quella? è la ragazza molto brava a cantare bello bravo a cantare questa è la tua ragazza allora cantale una serenata dai una serenata vai non ce la fa non ce la fa non ce la fa secondo me è in grado di fare qualcos'altro vero Pitardi giusto? magari si adesso vediamo come punta la serata tu cosa dici sei propensa? vedremo magari per il suo compleanno può anche essere ecco qua incredibile questo capita una volta all'anno è tinto o è vero? no no è vero è vero funziona vero anche quello lì che la tiene è vero non è un personaggio vero ti stupisce? stupisce il meccanismo di rotazione della macchina sì perché lui faceva Formula 1 prima allora c'è un rimasto non è proprio così il volante però era pedale ascolta dai come ti chiamo? Federico Federico da Confaga quanti anni? 23 23 quasi quasi con la morosina dai fagli gli auguri digli qualcosa che rimarrà registrato un messaggio d'auguri incredibile no è grazie alle tranne se li fa da solo se li fa da solo doveva farteli ti amo a me no non è ah non avevo capito ancora no vediamo per i 24 vediamo per i 24 va bene dai aspettiamo ok salutate in camera ciao ragazzi ciao 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 ciao